Coriandoli, maschere, trenino, musica e soprattutto tanto divertimento. Per l'ultimo di carnevale si torna a festeggiare in piazza Sant'Agostino. L'evento come sempre è stato organizzato dai commercianti della piazza, da confesercenti e confcommercio. Vedere i bambini che si divertono così a liberi, senza nessun intoppo, è bellissimo. I genitori sono contenti perché sono tutti tranquilli i bambini qua. Una pazza tutta chiusa al traffico, meglio di qui, non si può fare di meglio, insomma, si può chiedere di meglio. Un pomeriggio all'insegna del divertimento per i più piccoli, con l'intramontabile trenino del Carnevale dell'Orciolaia, ma anche maschere Disney e la Wiki Race. In piazza Sant'Agostino poi anche le maschere barocche del Carnevale dei figli di Bocco. Ad animare la serata invece fino alla mezzanotte, la musica e il karaoke del trio Beppe, Marco e Robi. Ci sono centinaia di bambini, veramente, veramente bello. La città ha risposte, questo è importante. E noi cerchiamo di fare del nostro meglio con della bella musica.